Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy E benvenuti in una nuova, nuovissima, analisi definitiva Oggi parliamo di God of War Ragnarok su PC Perché sì, finalmente è arrivato il momento anche per i giocatori di PC di godersi il secondo capitolo di God of War tanto atteso che probabilmente in tanti stavano aspettando effettivamente proprio perché ormai è una consapevolezza quella che Sony pubblica i suoi giochi a distanza anche di qualche anno ma li pubblica anche per noi Tra l'altro questo è il primo titolo che va sotto anche in maniera più importante dei due anni, siccome sono passati tipo un anno e nove mesi, dieci mesi dal rilascio di God of War Ragnarok su PlayStation 5 e PlayStation 4 quindi comunque una cosa buona Prima di passare semplicemente al lato tecnico alle solite spiegazioni, impostazioni e così via c'è un enorme elefante nella stanza che si sta parlando di questo problema di God of War Ragnarok anche dalle prime recensioni negative che ci sono su Steam che è la questione PSN E già di base nel momento in cui stiamo registrando ci sono tantissime recensioni negative e la maggior parte bene o male riguardano proprio questo punto che è un punto che abbiamo già affrontato in un'altra occasione di questo tipo e che Sony a quanto pare continua a reiterare è obbligatorio il PSN, il login sul PSN all'entrata nel gioco obbligatorio cosa vuol dire? Che voi lanciate il gioco la prima volta e vi chiede il login se no non andate avanti ad esempio a noi frega cazzi perché noi abbiamo tutte le PlayStation da quando sono uscite abbiamo ovviamente un account PlayStation sono entrato, mi sono logato e ho chiuso il problema è che su PC e Steam vende su una quantità enorme di paesi ed è ovviamente più capillare di PlayStation per cui ci sono tanti paesi stiamo parlando di oltre 100 paesi che sono tagliati fuori ed era lo stesso problema se ricordate di Eldivers quindi è un problema nel senso che ti tagli fuori un'utenza una fascia d'utenza che per quanto sembra non te ne freghi niente è comunque importante ed è ovviamente una parte che fa rumore in un certo senso è un supporto mancato che fa tanto rumore quindi è vero a noi o magari a tanti di voi anche frega niente di mettere un login in più all'interno però a molti dà fastidio anche quello perché la vedono come un'incursione di Sony in un posto che non le compete esatto che è il discorso che facevamo già appunto ai tempi di Eldivers perché alla fine ragazzi diciamoci le cose come stanno quell'obbligatorietà è semplicemente un modo per far rientrare gli utenti PC nel numero di utenti attivi PlayStation e che sono entrati appunto nel loro account PS e quindi vendere a livello azionario un numero di utenti attivi aumentato includendo ovviamente anche gli utenti PC nell'ecosistema PlayStation e quindi facendo vedere il loro ecosistema nettamente più in salute è un po' una roba della serie sì non ti basta vendere il gioco anche su un'altra piattaforma ma devi far vedere che sei attivo che sei florido come realtà e quindi hai bisogno di quel numerino lì ed è una cosa che a noi sta sulle balle lo abbiamo già detto e ripetuto tante volte proprio perché è una forzatura perché è un qualcosa che entra nel nostro mondo ma non dovrebbe in un certo senso dà fastidio un po' a tutti in generale anche semplicemente perché è un qualcosa che ti richiedono non dandoti nulla cioè ad esempio su SIV abbiamo già fatto gli esempi se ti loghi ti danno all'orecount ti danno un personaggio gratuito tantissimi fanno questa cosa qua che ti danno magari delle cose stupide possono darti magari una skin o qualcosa adesso in God of War non lo so una runa o altro invece comunque è un qualcosa di scontato di default che devi farlo perché te lo impongono però ovviamente questa è una review tecnica non non dobbiamo parlare di queste cose però giustamente la ci diamo sì è giusto evidenziarla per cui adesso parliamo della review tecnica prima delle impostazioni parliamo della compilazione di shader che qua è aggiunta in una maniera bellissima perché perché comunque è lunga completa non c'è non vediamo shader compilation starter e qual è il bello è che tu entri e hai la shader compilation che di solito è una palla perché magari devi aspettare 5 al massimo 10 minuti qua no ti fa andare avanti i primi 20 minuti di gioco sono tutte cazzi non giochi in realtà quindi lui te la fa di nascosto mentre tu giochi non ti fa neanche il caricamento iniziale mentre tu non giochi per cui non ti fai neanche il caricamento iniziale quindi sinceramente è pensata sono quelle ottimizzazioni furbe che ti permettono di godirti il gioco senza magari romperti le balle di fare la compilazione per noi è stato un po' un incubo perché dovendo cambiare scheda video di continuo per fare i test ogni volta c'era da ricompilare è una rottura di palle quella e parliamo della review tecnica partendo come al solito dalle impostazioni perché abbiamo tanti tipi di dettaglio in più rispetto ovviamente a una versione console abbiamo una profondità nel livello di personalizzazione del dettaglio che questa volta aggiunge più che altro tante tecnologie di upscaling ci sono dei dettagli in più ma le opzioni non sono tantissime però comunque abbiamo tutte le tech praticamente perché abbiamo FSR aggiornato DLSS aggiornato XSS aggiornato abbiamo i frame generator di nvidia e md abbiamo anche reflex quindi pacchetto tecnologie completo il livello di personalizzazione per quanto riguarda i dettagli classici è abbastanza standard andate sui livelli dal basso all'ultra e bene o male ritoccate un po' tutti i dettagli classici che potete trovare nelle impostazioni classiche su pc niente di più quello è un punto che approfondiremo anche dopo quindi non c'è un'aggiunta per quanto riguarda magari un'illuminazione in ray tracing o altri livelli di dettaglio un bel riflesso RT esatto forse servivano di più global illumination eccetera eccetera c'è solo l'applicazione di questi pacchetti di tecnologie che ormai stiamo vedendo essere sempre più semplici da implementare lo vediamo sempre più spesso in sempre più giochi praticamente sempre mettono tutte e tre le tecnologie nelle versioni aggiornate ormai è abbastanza facile la cosa figa di come vengono implementate queste impostazioni è che c'è la trasparenza quindi possiamo vedere in game quello che succede quando cambiamo appunto impostazione che è una cosa che fa sempre piacere e che molti che sviluppano PC non fanno vedere Sony che lo fa su alcuni titoli perché non su tutti però è una grande bella cosa è bello sì in gioco c'è appunto il classico split screen con la trasparenza nelle opzioni anche direttamente nel menu vedete ad esempio all'inizio proprio Kratos con tutto il dettaglio dietro che cambia se cambiate le impostazioni quindi ottima cosa questo ci è sempre piaciuto lo sapete benissimo e come vanno presentate le impostazioni quindi le impostazioni subito promosse parlando più che altro del comparto tecnico di questo titolo ragazzi sappiamo che non è un gioco del 2024 non è neanche un gioco del 2022 se vogliamo vederlo cioè a livello di aggiornato è un titolo cross gen e tutto questo cross gen si vede si vede però anche che è fatto veramente bene ed è fatto gente con i contro cosiddetti perché Santa Monica caccia di anno sì e anche scalando sui vari livelli di dettaglio abbiamo visto che andando in tutte le risoluzioni dall'ultra al basso si riesce comunque a ottenere un ottimo livello di dettaglio anche scalando molto in basso anche su macchine diverse perché l'abbiamo provato come al solito su una miriade di schede video e non solo perché c'è anche la prova su handheld quindi su un hardware molto più ridimensionato e abbiamo visto che bene o male i livelli di dettaglio sono molto scalabili ma scalano bene non è un Alan Wake dove il basso sembra fighissimo a prescindere però scala bene anche in basso le sbavature le vediamo andando poi nell'analisi precisa di ogni dettaglio perché ci sono soprattutto scalando con le risoluzioni verso il basso però riguardano dettagli precisi non il complesso quindi giocate con i dettagli perché potete togliervi più che altro delle soddisfazioni riuscendo a farla girare ad aggiungere fps veramente molto alti tra l'altro bellissimo che esce questo titolo proprio nelle settimane in cui abbiamo fatto discorsi diversi su playstation 5 pro e tutto perché rappresenta proprio quello che abbiamo detto un titolo furbo è un titolo che come ha detto lui l'altra volta nel video aggira tutte quelle che sono le possibili problematiche su console e a livello di programmazione e poi lo porti su pc e si vede questo perché la cpu inutilizzata praticamente e lui ha il gpu si vede veramente bene per quello che pesa perché dà veramente tanto e come è studiato c'è lui e a treos che sembrano veramente super next gen sempre super dettagliati in primo piano quindi ci soffermi tanto il colpo d'occhio è bellissimo in alcuni biomi soprattutto appunto quando è carica l'immagine è ricca di colori ha anche una bella palette di colori come gioco in generale quindi il colpo d'occhio rende effettivamente però il fatto che il dettaglio sul personaggio sia così preciso ti cattura un pochettino l'attenzione e distoglie lo sguardo dalle furbizie diciamo perché il resto l'attorno diciamo del corridoio largo di questo titolo è ovviamente un po' meno di livello in cui si vede appunto la natura non ultra recente non fatta apposta e pensata per un hardware di livello di questo titolo e si vede e come però comunque rimane un livello ottimo proprio perché comunque nonostante le furbizie sono riuscite a tirar fuori comunque qualcosa di importante sì a livello grafico è proprio un gioco che appunto si vede essere cross gen a metà tra una generazione e l'altra quindi non è un qualcosa che spacca la mascella come magari alcuni titoli che abbiamo analizzato negli scorsi mesi mi viene in mente un Hellblade che è forse l'esempio peggiore in meglio che potremmo fare in questo senso però non è neanche troppo attaccato alla generazione passata è una via di mezzo però rappresenta anche tutte quelle problematiche che abbiamo detto nel video sul fallimento di PlayStation 5 perché di fatto è un gioco che esce comunque a inizio generazione PlayStation e adesso vederlo su PC ha un corridoio unico è una strettoia unica con tutti quei passaggi per fare il caricamento della prossima area e sanno veramente tantissimi e sono tantissimi tantissimi proprio figlio di una generazione passata anche nel gameplay nel design di gioco perché veramente le strettoie i passaggi quando lui sposta i tronchi quando lui si infila nei pertugi sono tantissimi ed entrando nello specifico tutti i vari asset analizzando tutti i vari asset cambia tanto in alcuni casi da un livello di dettaglio all'altro però in generale sono tutti di buon livello si prende forse i riflessi e la vegetazione che è un po' bidimensionale le texture sono comunque valide molto valide sul poi i personaggi principali su quello che è il nucleo fondamentale dell'immagine sono di altissimo livello mentre i riflessi in screen space così sono veramente secondo me anacronistici si anacronistici è il termine perché sono sviluppati proprio in un modo anacronistico li vedi e li sgami subito ed è un pochettino poco immersiva come sensazione perché soprattutto scalando il dettaglio verso il basso le risoluzioni più che alto verso il basso lo noti ancora di più e crea degli artefatti brutti in certe situazioni ve ne stiamo facendo vedere magari qualcuno proprio per farvi capire che cos'è la sensazione che al movimento veloce vedi proprio degli artefatti in corrispondenza degli elementi in primo piano che vanno a interrompere il riflesso in screen space e questo è furbissimo perché tu quello non te ne accorgi cioè spesso tu quello se non sei un po' più attento non te ne accorgi e lì sta la bravura il cercare di mettervi davanti per la maggior parte del tempo le cose fighissime poi io devo togliere da qualche parte per compensare e quelle cose ci sono però cerco di nascondere il meno possibile io ho qua il pieno controllo e posso fare quello che voglio per questo diciamo che sono sartorialmente cuciti sulle macchine e non sono da far media perché nessuno ha nessuno sviluppatore medio che usa strumenti medi con capacità tecniche medie riesce a fare cose di questo tipo e qui mi viene da dire soprattutto su questo punto ma così come sull'illuminazione globale sulle ombre in generale sarebbe stato carinissimo su un gioco come God of War poi tra l'altro che non è proprio un giochino che passa in secondo piano un approfondimento del dettaglio con magari l'inserimento di un ray tracing di una gestione dell'illuminazione più moderna mettiamola così e non appunto un paro paro a quello che abbiamo visto su playstation un full rt global riflessi ombre sarebbe stato non dico per forza path tracing però almeno sui riflessi sulle ombre sulla global illumination sarebbe stato figo e prima di passare alle prestazioni che questa cosa che abbiamo detto ci dà un gancio enorme alle prestazioni liquidiamo i particellari dicendo noi comunque sono buoni buoni così come le ombre qualche sbavatura ogni tanto ma di buon livello così come le texture ma appunto il gancio è proprio per parlare delle prestazioni perché come detto sì abbiamo un porting preciso da quello che abbiamo visto su playstation 5 sì con qualcosa in più a livello di asset ma non tragico e questo si nota si nota perché appunto non abbiamo l'ultra e quindi ovviamente anche qui non è che è ottimizzato da dio perché dici ah qua la 4090 fa 8 milioni di fps ottimizzato da dio no la 4090 non è sfruttata esatto noi abbiamo fatto i test in 4k su 12 schede 8 due terzi vanno a 30 fps in 4k nativi nativi senza attivare gli SS senza attivare nulla 4k nativo 8 su 12 praticamente e questo fa capire chiaramente come non è tanto ottimizzazione ma è non sfruttamento dell'hardware e non sfruttamento non vuol dire che se mettete il counter la scheda non sta andando al 100% semplicemente che quelle prestazioni in più sono semplicemente fps gratis non vi servono potevano benissimo essere investiti in appunto un dettaglio grafico ultra più moderno che non servono no? perché comunque è un gioco action quindi comunque fa piacere giocare a 100 fps anzi assolutamente piacere però comunque non hai la possibilità di scegliere se aggiungere un po' più di grafica o gli fps ti tocca scegliere gli fps e questo quando valutiamo un titolo tecnicamente ne teniamo conto perché su Wukong o altri titoli che impegnano puoi scegliere se andare su o spremere la GPU qua non puoi perché in full hd tutto viene gestito anche le intel arche che sono ottimizzate male malissimo fanno i 30 fps con la 750 cioè in full hd che sono ottimizzate malissimo ed è l'unica che vede il 3 come primo numero perché tutte le altre bene o male in full hd tutti in qualsiasi caso a dettaglio ultra senza applicazioni di tecnologie stanno sopra i 40 io vorrei fermarmi un attimo 4060 ti uno scolapasta di scheda video che fa 30 fps 33 fps di media noi la mettiamo in equilibrato in 4k con il dlss arriva a quasi 60 5760 attiviamo il frame generator dmd perché quello in video non va e poi lo diciamo arriviamo a 88 fps in 4k attiviamo anche il reflex quindi con ovviamente una diminuzione della latenza accettabilissima con la 46ti 80 fps in 4k con il dlss in equilibrato che comunque si vede perfettamente a parte un po' sull'acqua un filino di aliesing di che cavolo stiamo parlando e questi test non sono stati fatti nell'area della neve sono stati fatti dopo abbiamo giocato dopo e quell'area lì è pompata di fps ne fa almeno il 10-20% in più delle aree dopo perché noi all'inizio mi hanno detto cazzo quanti fps è fasto esatto incredibile poi abbiamo visto i caricamenti che ci sono tra le porte quel sentiero che ti porta i caricamenti praticamente faceva il 30% in meno degli fps no non possiamo benchare qua lo facciamo nelle prossime aree infatti l'abbiamo fatto dopo e i benchmark che ci sono assestati sono qua nel primo pezzo la 4610 fa 40 fps in 4K infatti infatti e questo bene o male vi dà un'idea anche trasversale di quelle che sono le prestazioni le state vedendo anche nei grafici però in generale di quanto il gioco può essere accessibile un po' alla maggior parte dell'hardware ma bene o male lo potevate capire anche solo da quello che è stato le specifiche requisiti minimi richiesti appunto anche da Sony da Santa Monica per questo gioco perché si parte da una 1060 per cui capite è abbastanza scalabile c'è un discorso da fare sulla scalabilità ma ci arriviamo con cambio più che altro è che bisogna dire che appunto AMD e vabbè Intel lasciamo perdere Intel però anche AMD è un po' sotto underperformer rispetto a quelle che sono le reali potenzialità delle schede appunto perché questo gioco è stato fatto per la media per essere girato minima spesa massima resa quindi girare sulla maggior parte dell'hardware quindi girare su Nvidia però è un pattern che bene o male stiamo vedendo lineare da parte di tutti però che in effetti dobbiamo dire un gioco con un 460Ti poi gioca in 4K di cosa stiamo parlando cioè regà e proprio a riprova di questo abbiamo fatto anche il nostro classico test con la configurazione de merda con una 2060 abbinata a un 3600 quindi una configurazione che oggigiorno è abbastanza obsoleta e anche qui andando comunque a scalare non troppo sui dettagli ovviamente in Full HD stiamo tranquillamente sui 30-40 no ma anche i 60 ci arriviamo a scalare si poi andando anche ad aggiungere DLSS dettagli in meno eccetera zero CPU zero problemi sulla CPU ampiamente prevedibile su giochi appunto Sony e comunque PlayStation Studios perché non ne fanno di CPU heavy ovviamente per cui è ovvio che il risultato è più che buono molto rapidamente anche qui abbiamo detto che come implementazioni aggiuntive per la versione PC ci sono tutti gli upscaler aggiornati perché il DLSS è al 3.7 l'FSR è al 3.1 e l'XSS è all'1.2 quindi abbiamo tutte le tech aggiornate e le abbiamo ovviamente provate e l'applicativo è buono sì il DLSS come al solito è quello migliore e l'FSR però non ha un'applicazione uscena anzi comunque non fa un agliese interribile abbiamo sfidato proprio in una scena dove c'era la corda che le scene quelle lì dove ci sono quelle ringhiere quelle cose così l'FSR di solito le smarmella ovunque facendo un rumore allucinante invece qua comunque a parte in fondo c'è un minimo di rumore in più ma comunque il 99% dei persone manco si accorge e c'è da segnalare parlando appunto di tech applicate in più che non è la prima volta ma anche in questo caso ci sono problemi col frame generator di NVIDIA NVIDIA svegliati perché il frame generator al day one deve funzionare anche perché la gente l'ha pagato con le 4000 quando esce non va fa incazzare quindi svegliatevi si può applicare lo potete fisicamente mettere come opzione il punto è che non genera ma gli sviluppatori pagate e fatele funzionare anche perché AMD funziona quindi non solo funziona è l'ennesimo gioco del frame generator AMD funziona al di là non funzionare funziona bene e funziona veramente bene oltretutto ve ne accorgete subito perché alcuni hanno detto hanno attivato ma se il primo titolo dove se tu attivi il DLSS di NVIDIA non ti parte anche automaticamente il Reflex quindi lo vedi attivi DLSS e non va Reflex già ti devi dire il dubbio però non ci soffermiamo troppo su questo punto perché sappiamo benissimo che esatto da patchare sicuramente quindi abbiamo provato anche su Z1 Extreme quindi processore ormai più diffuso delle Endled quello di alla X Ally e Lee Jong-Go funziona in basso in 720p arriviamo anche a 60fps con l'FSR3 a medio ci sta non è Forbidden West perché Forbidden West è un gradino sopra secondo me molto più giocabile però ci sta giocabilissimo e voi direte perché a 60fps in basso metti in medio e fai 50 40 e qui subentra il problema principale il problema principale di questo gioco è la gestione della VRAM gestione un po' strana veramente strana parecchio strana punto numero uno e c'è da specificarlo fin da subito anche perché già nel momento in cui registriamo ci sono più recensioni negative e più anche articoli già pubblici sul fatto che ci sia effettivamente un blocco per tutte le GPU che non hanno più di 4 giga o meglio hanno meno dedicate dedicate che hanno meno di 6 giga diciamo dedicate perché come detto su handheld funziona ma anche la grafica integrata la fa partire perché rileva di sistema più di 4 giga più che altro che ci sono schede come la 30 e 50 che potrebbero farlo girare abbastanza tranquillamente questo gioco se non ci fosse il problema anche sfruttando le tech quindi esatto anche perché gira sulla 20 e 60 perché non è girato la 30 e 50 e già qui abbiamo cioppato via un po' di gente un po' di hardware non tanto ma giusto quello per non avere problemi ma poi come detto anche qui al saturare della VRAM abbiamo effettivamente un grosso importante calo di FPS per questo abbiamo detto che ad esempio su handheld abbiamo provato a mettere dettagli medi sempre nella configurazione 720 e gli FPS dimezzano praticamente sì sembra che non svuoti la memoria RAM arrivata a un certo punto non si svuoti correttamente perché comunque alla fine a livello di texture non sono clamorose come abbiamo detto le performance anche lo dimostrano non è un gioco con delle texture epocali Nanite Unreal Engine 5 o chissà che cosa cioè è comunque un buon titolo a livello di texture a livello di qualità ma non da occupare oltre 10 giga 11 giga esatto infatti invece li occupa e come invece li occupa e a quanto pare c'è proprio un funzionamento strano per quello diciamo che c'è un problema perché a quanto pare non riuscendo a svuotare velocemente abbastanza velocemente la VRAM si accumula e la occupa sempre di più tant'è che si arriva a un certo punto in cui arrivi quasi a saturare anche se ne hai infinita come sulla 90 o sulla 80 arrivi a un certo punto che quasi la saturi riavvi il gioco e si svuota un pochettino quindi è un po' una gestione particolare strana stupida però la risoluzione è altrettanto stupida menu esci rientra che voi dite non è una soluzione non esiste che fai una roba del genere ma era patchato perché anche il primo go è stato patchato per motivi simili però comunque è una cosa fastidiosissima che non dovevano assolutamente fare anche perché è veramente un peccato perché con queste performance veramente gira su un tosta pane con la 4060 Ti anche perché poi noi abbiamo fatto su run su due pc diversi uguali e ovviamente io ho giocato con una GPU top di gamma lui con la 4060 Ti e lui ha fatto tutte le sue ore di gioco proprio anche le cazzine e tutto quindi diverse ore di gioco consecutive e la 60 Ti non ha avuto problemi non c'è stato grandi complicazioni stuttering o problemi derivanti da un frame buffer violento in generale quindi è molto situazionale anche lì la gestione probabilmente della VRAM varia tanto da scheda a scheda e dove hai meno VRAM riesce a romperti le palle di più in questo momento però come hai detto è un problema che verosimilmente potranno patchare a breve con una roba del genere quindi non sappiamo bene quanto sia problematica questa cosa ad oggi fatto sta che c'è una mala gestione della VRAM da sistemare a quello sicuro in conclusione ragazzi è un ottimo titolo con ottime performance con dei problemi che risolveranno comunque a breve però rimane comunque sempre un compitino molti gridano ho visto anche di tweet ottimizzazione allucinante ma non è un'ottimizzazione allucinante è un gioco che gira benissimo su PlayStation 5 su un hardware appunto ormai che su PC è abbastanza è fascia bassa delle GPU molto bassa e fascia inesistente delle CPU ed è normale che giri benissimo arrivati a questo punto oltretutto come detto già e ripetuto più volte è un gioco figlio del suo tempo perché deve girare anche su hardware addirittura più vecchio quindi è un gioco che di base ad oggi non ha niente di così strabiliante delle nuove tech delle nuove implementazioni della nuova grafica che abbiamo visto già in tanti titoli quindi ok sì potete anche parlare di ottimizzazione ma non è ottimizzazione è semplicemente una scrittura di gioco uno sviluppo fatto apposta per girare sulla maggior parte dell'hardware detto in soldoni minima spesa massima resa il gioco tra l'altro è ottimizzato perfettamente per Nvidia per AMD e Nvidia che occupano una piccola percentuale di mercato no hanno escluso le schede video sotto i 4 giga quindi leviamoci quella parte lì prendiamo la massa critica anche lì chi ha le super 4090 non gli mettiamo aggiungiamo tech o che le schede prestanti perché tanto chi se ne frega lasciamo lì facciamogli fare 80.000 fps prendiamoci la maggior parte del mercato prendiamo gli utenti attivi su playstation network e siamo tutti contenti è un peccato perché effettivamente è un gioco così che sicuramente tanti stavano aspettando tanti utenti pc stavano aspettando di giocare sarebbe stato come detto molto bello vederlo in una versione enhanced una versione diciamo degna del pc con qualcosa in più e non un porting con ormai le tech che sono facilissime da implementare che aggiungono fps ma non aggiungono quel quid in più a un gioco che ormai anche a livello di comparto tecnico non è ai tempi d'oggi non è un gioco 2024 peccato così come è stato per altri porting visti sony peccato io avrei voluto qualcosina di più però sappiamo che comunque per quello che è l'impegno sony su pc non sono cose che possono fare perché appunto ci tengono ancora l'ecosistema playstation e non vogliono e hanno detto anche nelle ultime dichiarazioni che è comunque il loro impegno principale e ovvio non vogliono farlo sfigurare dedicando anche così tante energie al mondo pc quindi sicuramente vi godete vi godrete un'esperienza di gaming bellissima e vi consiglio assolutamente di comprare questo titolo magari se mai aspettate un attimino che risolvano il problema del frame generator e il problema della vram però vi consiglio assolutamente di prenderlo non vi aspettate ovvio il capolavoro allucinante a livello tecnico che vi esplodono gli occhi graficamente è molto molto gradevole molto bello ma ovvio rispetto alle ultime cose top che sono uscite le ultime mesi che abbiamo fatto è ovvio che non è allo stesso livello ma è god of war lo aspettavano tutti tutti noi ce lo giocheremo esatto quindi giocatevelo anche voi e fateci sapere se lo aspettavate anche voi e alla prossima ragazzi grazie a tutti